Continuo solamente a pensare che tutti quei vampiri che abbiamo appena ucciso prima erano persone normali. Ci siamo. La vecchia storia. I vampiri sono come noi, eh? Ma non lo sono, Seth. Sai cosa vedo quando guardo un vampiro? Un grosso simbolo del dollaro. Sono solo questo, bugiardi e assassini. Qui non c'è Brad Pitt con la giacca di pelle che smania per il sangue. Non è Eclipse, non è New Moon, non è Breaking Dawn parte 1. Di questo si tratta. Perché sai tutti i titoli dei film di Twilight nello specifico? E che problemi hai con Breaking Dawn parte 2? È l'emozionante finale della saga di Twilight. Ma l'hai vista la seconda parte? Bella ha tenuto la bambina, è pazzesco. Ha tenuto la bambina? Oh, vorrei essere te solo per rivederlo per la prima volta. Ti aspetta una sorpresa. È stata mia figlia a costringermi, non mi ha preso così tanto. E' stata mia figlia a teモ tosi come. Guardate bene. Mandare.